buonasera da riccardo zarfati portafogli tf di one hour trading vediamo oggi gli spunti operativi per l'ultimo giorno della settimana quindi per venerdì 20 di maggio questa la lista dei nostri etf monitorati e questo il quadro della giornata vedete oggi sia indici che materie prime tutte decisamente a ribasso leggiamo prima il tabellone italia perde quasi un punto percentuale la germania 1 e 30 lo standard pure in questo momento circa un punto percentuale seppure è impegnato mentre vi parlo dopo la chiusura dei mercati europei in un tentativo di reazione piuttosto interessante oro meno 1 69 petrolio 2 26 per cento negativo e corna addirittura meno 3 per cento euro dollaro scivola scivolato durante la giornata addirittura sotto 1 12 per poi recuperarli al momento ma comunque estrema debolezza perde circa mezzo punto percentuale che cosa è successo non certo le nuove richieste di disoccupazione americana le settimanali con 279 278 mila nuove unità quindi sostanzialmente linea con le attese ma quello che sta un po influenzando i mercati in questa fase sono le minute della fed che esprimono la reale possibilità che a giugno o a breve viene detto ci possa essere un rialzo dei tassi credibile o meno sia la cosa difficile dirlo è chiaro che comunque i mercati dopo queste minuti dopo aver letto queste minute si sono un po riposizionati cambiando lo scenario nel breve periodo e tra un momento vedremo le candele vedete e vedremo insieme che molte cose sono cambiate nell'approccio operativo che stavamo seguendo quindi andiamo subito a vedere le candele che cosa è successo sui nostri indici a materie prime che vediamo ogni giorno iniziamo dal indice italiano vedete è chiaro che in un contesto di possibile rialzo dei tassi le banche generalmente ne beneficia perché i margini di interesse sono più interessanti vedete l'indice italiano nonostante abbia fatto meno 1% fa una candela di stabilizzazione per cui ha mostrato anche nell'intraday abbiamo visto anche le variazioni negative ha mostrato una certa forza relativa per cui in questo momento con questo tipo di grafico rimanerei e continuerei a rimanere in osservazione perché vedete la debolezza di fatto continua ma non ci sono stati e non ci sono dei decisi a fondo rimaniamo sempre per il sottostante per l'indice intorno ad area 17500 che sappiamo da un punto di vista di livelli statici rimane un livello piuttosto importante naturalmente di supporto non è stato ancora abbandonato nonostante ripetuti tentativi nelle ultime 45 giornate per cui al momento non rischierei né una posizione short né una posizione log chiaramente in assenza di un qualche segnale quindi osservazione per l'indice italiano invece sul dax la debolezza sembra essere più più forte vedete qua ricompare una candela rossa di 30 per cui si riattiva decisamente una candela una diciamo una direzionalità ribassista su questo indice certo è chiaro qua rimaniamo sempre più o meno sugli stessi livelli è ancora difficile dire se questa è una stabilizzazione prima di una effettivamente di una seconda gamba oppure se è una lunga fase di accumulo che ormai dura da quasi due settimane per tentare di nuovo un ripristino della del rialzo fino al test nuovamente delle resistenze per il momento questo non lo sappiamo vediamo solo che c'è una candela rossa di trend senza code superiori per cui questo riattiva al momento la operatività ribassista sul dax se andiamo a vedere anche l'analogo strumento short sul dax abbiamo chiaramente una cosa piuttosto che eretto vediamo se riusciamo a trovarlo no questo è il petrolio eccolo qua la short dax vedete c'è una fase di stabilizzazione ovviamente al rialzo i prezzi sono tornati sopra le medie mobili c'è una candela verde di trend di nuovo per cui operatività ribassista che può essere eseguita seguendo naturalmente questo strumento che ricordo è l'xs dx come ticker questo per quanto riguarda il mercato tedesco se andiamo a vedere il mercato americano abbiamo una situazione piuttosto simile vedete ieri avevo prospettato questo importante supporto e la possibilità che ci fosse in essere in formazione un test e spalle ribassista vedete oggi i supporti sono stati rotti per cui se non c'è un di nuovo un qualche ritorno brusco verso l'alto un target naturale di questo movimento dovrebbe essere in area 45 e 50 circa per cui anche in questo caso la posizione short naturalmente io raccomando sempre di seguire short i mercati europei e non quella americana perché le posizioni short gli etf short su questo mercato sono in dollari se il diciamo il dollaro dovesse tornare ad indebolirsi anche se si è dalla parte giusta si rischia di non fare profitto per cui lascerei un attimo da parte questa possibilità di short al momento sul mercato americano bene questo per quanto riguarda gli indici cambiano anche un po' di cose sulle materie prime per il momento non sull'oro qua stiamo in osservazione vedete si continua a fare su e giù oggi una certa debolezza dello strumento meno 1 e 70 questa candela è frutto probabilmente una qualche apertura strana dello strumento a volte succede sugli etf ma comunque diciamo vale la candela rossa che si è andata a formare in giornata quindi per il momento si stabilizza tra recenti resistenze e questa fascia di supporti e non c'è un trend nelle ultime giornate degno di nota si interrompe invece la pressione rialzista sul petrolio vedete oggi meno 3 42 lo strumento da una prima candela rossa probabilmente non è uno short anche se il segnale potrebbe anche essere credibile visto che arriva da un ipercomprato su un trend di fondo che rimane sostanzialmente ribassista per cui questa potrebbe essere una opportunità al limite per andare short chiaro che qua ricordo sempre sul petrolio le fluttuazioni sono sempre molto ampie per cui attenzione con il tarare nel modo giusto l'ammontare della posizione per coloro che volessero seguire questo al momento per il momento è una sola candela per cui si rimane neutrali e poi si vedrà come si sviluppa la cosa nelle prossime giornate quindi sospensione diciamo della fase rialzista nel breve per il petrolio e sospensione anche della fase rialzista nel breve per il corno che vedete fa meno 2 0 6 lo strumento e da questi livelli qua sembra essersi formata per lo meno nel breve una resistenza vediamo se questa inizio di debolezza proseguirà nelle prossime giornate chiaro che qua per inficiare completamente questa cambria rialzista bisognerà scendere sotto i 4 e 9 vedete da queste parti passa le medie mobili che sono orientate ancora rialzo chiaramente qua non c'è stato un avvicinarsi di un ipercomprato di breve per cui qua gli scenari sono ancora aperti comunque a fronte di questa candela per il momento il suggerimento nel breve di sospendere l'operatività sul corn in attesa di ulteriori sviluppi bene quindi parecchie cose sono cambiate oggi con questa giornata dopo le minute della fed andiamo un po' a vedere l'epilogo di trend di breve sostanzialmente si rimane neutrali sull'indice italiano che sembra oggi avere una forza relativa comunque migliore degli altri due mentre si torna al ribasso come trend prevalente di breve per i due mercati americano e DAX sulle materie prime neutralità al momento ci sono stati oggi dei bruschi indietreggiamenti da possibili nuovi livelli di resistenza per questi strumenti i segnali non sono ancora confermati c'è solo un primo delle prime candele rosse parlo naturalmente di petrolio e corn vedremo se nei prossimi giornali saranno confermate si valuterà eventualmente una qualche operatività contraria a quella prevalente fino a ieri che era ovviamente al rialzo bene questo è tutto un invito a mettere un pollice alzato su questo su questo video se vi è piaciuto e naturalmente anche un invito ad iscrivervi al canale video su youtube di one hour trading dove così sarete diciamo prontamente informati via email del postare dei quando saranno postati nuovi video questo naturalmente l'invito inoltre a visitare one hour trading.it la registrazione è gratuita anche per oggi è tutto vi ringrazio per l'attenzione questi sono ovviamente i miei contatti e ci vediamo domani per un nuovo appuntamento a presto